La nuova e durissima bocciatura del tavolo ministeriale di monitoraggio della sanità sui 38 mesi di governo del comparto da parte del centro-destra conferma tutti gli allarmi lanciati in questi mesi. L'Abruzzo è ancora senza il piano operativo e la programmazione della rete ospedaliera e della rete territoriale collegata alle risorse PNRR, oltre a non avere ancora programmato la sanità futura, tanto che i tecnici chiedono la trasmissione della bozza di programma operativa 2022-2024. La voce più preoccupante però riguarda l'ingente disavanzo di gestione dei conti della sanità e che oggi trova una certificazione ministeriale. 107 milioni di euro non coerenti con il piano di rientro né con le risorse programmate. 107 milioni di euro in un solo anno con una mancata programmazione e con un debito che è destinato a ripetersi. Lo certifica il tavolo di monitoraggio che boccia questa regione ovviamente dicendoci quello che conosciamo. Zero atti della programmazione nell'intera legislatura e si attendono fatti e non soltanto chiacchiere. Pesantissimo il dato numerico sulla mobilità sanitaria passiva. La mobilità evitabile ammonta al 73,9 per cento mentre per quanto riguarda il costo economico delle migrazioni sanitarie fuori regione il saldo tra la mobilità attiva e passiva per la prima volta si attesta a meno 100,839 milioni di euro nel quarto trimestre del 2020. E il dato più drammatico perché la scusa di questo governo regionale su tutto sulla loro lentezza e sul fatto che sono fermi è il covid. Bene la mobilità ci dice tutt'altro perché il covid c'è stato ovviamente in tutto il mondo in altre regioni e il dato è che alcune regioni hanno dovuto prendersi carico dei pazienti abruzzesi. Noi insieme ai colleghi del centro-sinistra andremo fino in fondo per vedere per quali prestazioni e quali luoghi purtroppo sono costretti in qualche modo a subire questa fortissima negativissima mobilità passiva. Ritorna il rischio commissariamanto? Non lo dico io lo scrivono nero su bianco perché non ci sono risposte.